L'8 maggio è stata la giornata mondiale della Croce Rossa. Oggi a Sassari sono presenti gli stand per celebrare e far conoscere la loro attività. Vediamo il servizio di Bebo Madetto. Oggi siamo qua in Piazza Castello per presentare alla popolazione la festa internazionale della Croce Rossa che si svolge tutti gli anni dall'8 al 15 di maggio. Oggi abbiamo allestito questi stand per presentare le attività varie che ci sono e che fa la Croce Rossa. Abbiamo una postazione dove ci sono le infermiere volontarie, un corpo ausiliario delle forze armate. C'è una misurazione della glicemia e la misurazione della pressione arteriosa. Dopodiché abbiamo il secondo stand dove ci sono i giovani, i ragazzi del servizio civile perché in Croce Rossa si può fare anche il servizio civile. Alle mie spalle, come vedete, ci sono praticamente un'attività ludica nei confronti dei bambini che diamo assistenza ai bambini e li coinvolgiamo in determinate attività e dopodiché abbiamo una postazione dove facciamo vedere le manovre di ristruzione, il BLSD e tutto ciò che serve per utilizzarlo in mezzo alla strada, per salvare le vite. Le attività della Croce Rossa che svolge quotidianamente sono l'emergenza di ristrata del 118, assistiamo le persone a livello psicologico, infatti c'è un centro di ascolto, non solo ma oltretutto osserviamo le persone molto fragili che hanno necessità di un aiuto a livello anche di alimenti, di farmaci e quindi con le nostre attività è molto importante l'inserimento dei giovani.